Musica Oggi siamo in Sicilia ad Enna per parlare di protezione civile. Nonostante ancora l'emergenza sia attiva e numerosi volontari di Ampa Sicilia stanno lavorando sull'emergenza a Catania, Augusta e in altri luoghi della Sicilia colpiti, oggi siamo qui a progettare il futuro della protezione civile di Ampa Sicilia. E la riunione è stata una fucina di idee e ora dovremo mettere tutto insieme e dovremo iniziare questo nuovo percorso di rinnovamento del sistema di protezione civile. Dopo il Consiglio regionale di ieri stamattina ci apprestiamo a incontrare le associazioni siciliane che operano in protezione civile. Un doveroso ringraziamento va però a quelle associazioni, ma soprattutto a tutti quei volontari che da martedì scorso, quindi ancora per sei giorni, stanno lavorando incessantemente nelle province di Siracusa e di Catania per questa emergenza malterna. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!